Il sistema Active Blind Spot Assist supporta il guidatore durante i cambi di corsia con indicatore di direzione attivi, individuando eventuali veicoli negli angoli ciechi della vettura. Per poterlo abilitare, è necessario accedere al menu Driver Assistance del display touchscreen di bordo, selezionare Active Blind Spot Assist e l'icona Settings per stabilirne la sensibilità di intervento. Il sistema utilizza due sensori radar posizionati ai lati del paraurti posteriore. In caso di manovra con indicatore di direzione inserito, se il sistema rileva la presenza di un veicolo nell'angolo cieco posteriore, comunica il pericolo con segnali visivi sullo specchio retrovisore esterno, un avviso acustico e una vibrazione del volante. Se il guidatore non interviene, il sistema invita inoltre a correggere la traiettoria applicando una coppia al volante. Il sistema segnala inoltre se le mani del guidatore non sono sul volante per alcuni secondi, con feedback acustici e visivi. L'Active Blind Spot Assist funziona quando la velocità è compresa tra 10 e 180 km orari.